...quindi è stato scelto come palestriere Giordano Portini per Santa Costanza. Come vedremo che sta funzionando, che sarà il palestriere che muterà in penale. Quindi una grossa responsabilità per Giordano Portini che sta in questo momento in penale. Prego, il massimo silenzio. Sta regolando il bidino per lato l'estero. Silenzio. Grazie. Grazie a tutti.